Per quanto riguarda i lavoratori, per anni qui venivano praticamente considerate OSA anziché OSS, e c'è una differenza ovviamente sullo stipendio, noi lo andiamo a sanare e quindi da oggi si parla di OSS e non più di OSS. Per quanto riguarda la venda degli immobili, sono quegli immobili che noi riteniamo che non siano utili ai fini di istituzione dell'ente, tant'è che gli immobili di pregio in realtà costituiranno poi il motore della nuova azienda e di fatto nonostante noi andiamo a togliere questi immobili, il patrimonio immobiliare aumenterà più del doppio di quello attuale, valorizzando quelli che sono poi gli immobili più importanti. Per cui non è un'operazione di vendita come può apparire all'inizio, ma di fatto è un'operazione di valorizzazione. Per quanto riguarda i bandi di gara per migliorare i servizi? Il bando di gara per migliorare i servizi di fatto facciamo un bando unico, quindi l'ASP inizia a ragionare da ASP unica e non più da case di riposo separate e quindi è un bando che è un bando misto perché avremo su Teramo e Civitella affidiamo i servizi, su Nereto andremo in concessione. Quindi è anche questo un bando che ci consente di contenere dei costi e che ci permetterà rispetto a quel piano che abbiamo già stabilito di andare a pareggiare il bilancio corrente che era l'aspetto più importante secondo me da tenere sott'occhio. Fa tutto parte di questo processo di risanamento dell'azienda? Sì, è un piano che noi abbiamo pensato all'inizio che come voi vedete a mano a mano si sta realizzando, quindi non era un piano per buttare fumo agli occhi ma era un piano che noi ci credevamo e lo stiamo portando avanti. Poi ovviamente noi siamo riusciti a fare questo, si potrebbe fare di meglio ma noi intanto andiamo avanti con questo piano.